Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui oggi con Farming Simulator 22, riprendiamo i nostri mitici progressi. Allora, io sono andato avanti per conto mio, mentre quest'oggi invece daremo sfogo alla nostra piccolissima creatività. Voglio dire, no, ci abbiamo una mega fattoria, bisogna anche portarla avanti come giusto che sia. Allora, con questi 200.000 euro che io sono andato a guadagnare sia facendo un pochettino di lavori ma anche qui nei miei campi eccetera, quest'oggi andremo ad acquistare una nuova seminatrice e proviamo a seminare un campo. Vediamo un attimino come si semina perché non ho ancora provato, anzi l'ho provicchiato però riguardante la semina non l'ho ancora fatto, quindi lo faremo insieme. Allora, vediamo un attimino, riguardante il trattore, il trattore non c'è bisogno perché come trattore noi abbiamo questo qui, però io qui stavo mettendo la colza, che è la colza se non vado errato, mi sa che qui, aspettate mi sa che, ah ok, abbiamo il sorgo, l'uva, le olive, le patate, barbabietola, barbabietola, d'azzucco, il cotone, canna da zucchero, semi, uova, lana, latte, cippato, insilato, erba, fieno, paglia, diesel, sale, antigelo, farina, pane, torte, burro, formaggio, tessuti, abiti, zucchero, miele, cereali, olio di girasole, olio di colza, olio d'oliva, uvetta, succo d'uva, lattuga, pomodori, fragole, cioccolato, assi, mobili, fertilizzante, fertilizzante liquido, concime, liquami, digestato, calceviva, erbaccia e anche i sassi. Benissimo, va bene, allora vediamo un attimino, riguardante il frumento, noi ne abbiamo ancora un altro pochino, avesse considerato che alla Farmers Market è in rialzo a 1279, quasi quasi io dirì di andare a fare un altro piccolo carico di frumento, scaricarlo e guadagnare un altro pochino di soldi, riguardante la colza, paga veramente benissimo alla Gold Crest Valley, però paga anche di più alla Mangime e Cereali Sud, voglio dire, sono un paio di euro di differenza, però dai, vediamo un attimino, visto che è considerato che vorrei fare questa piccola cosa, ora vediamo un attimino com'è che siamo messi, perché, come detto, vorrei acquistare una nuova seminatrice, facciamo così, mi scarichi i semi, ok, mentre questa qui invece, dentro il nostro garage, seminatrice, me la vendi, per ben 26.000 euro, e vediamo un attimino di acquistare anche una nuova seminatrice, com'è che si fa, com'è che si fa, diciamo che il parco auto è rimasto sempre quasi lo stesso, seminatrici, vediamo un attimino, una seminatrice abbastanza tosta, questo qui semina questi, questo qua, anche questa qui è più grossa, oddio, costano veramente l'ira di Dio, non dico di certo il contrario, però, 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 vabbè, l'Amazone ormai è fatta vecchia, io direi di prendere la Pottinger, da ben 6 metri, 4.000 litri, 109.000 euro, non so se qui va messo anche il fertilizzante, oppure dovremmo fertilizzarla dopo, questo non lo so, però, ci possiamo anche lavorare, vediamo un attimino, abbiamo 8,9 tonnellate, 4.000 litri, 6 metri, 15 chilometri orari, AC70G, che dovrebbero essere le gomme, ovvero gli pneumatici, acquista, bene, perfetto, e, visto che è considerato che comunque sia, ci abbiamo il John Deere, andiamo un attimino al concessionario, maledizione a me e i nomi troppo difficili, non mi escono mai, andiamoci a prendere questa nuova seminatrice, vediamo un attimino, ritorniamo a casa, la ricarichiamo, iniziamo a seminare la cozza, vediamo un attimino dov'è che arriviamo, perché, da quello che ho capito, mi sa che il tempo va in base alle stagioni, calmo tu là davanti, buon uomo, che fa, si insinua, e non ti preoccupare, se andavamo più veloci, ti passavo sopra, tranquillissimo, e dicevo ragazzi, riguardante invece le stagioni, beh, qui dovrò capire un attimino come funziona, eccoci qua, bene, 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 prendiamo la nuova seminatrice, sapete forse magari che cosa? Ci mancava un qualche cosina, ovvero, questi qua sono i pacchetti, i pacchetti riguardanti cereali, uvo, olive, patate, chi più ne ha più ne metta, vanno categoria per categoria, vedete, che in tal caso vanno così, però i semi, 950 euro il pallet intero, che dite, proviamo ad acquistarlo, vediamo un attimo, io adesso l'ho acquistato, dov'è che me l'hai messo giovane? ah ok, sta qua, benissimo, allora collega questa, e riempimi questa, oddio, ah ok, perfetto, si va anche il fertilizzante, però con una pedana siamo al 65%, vediamo un attimino, riguardante invece, dove che sono i pallet, le balle, sacchi, pallet, fertilizzante liquido, a me serve il solido, dovrebbe essere questo, 1400 euro, ma stiamo scherzando, additivi per insilato, mangime, minerale, non ho capito a che cosa serve, però va bene, finquanto non riesco a capire a che cosa serve, ok, allora abbiamo sia quello liquido che quello solido, madonna, 1400 euro, vabbè, però comunque sia rispetto ai 9600 euro ragazzi, ci sta parecchia e parecchia differenza però eh, eh sì, allora prendiamo anche uno di questo, eh lo so, purtroppo finiremo tanto i soldi, però magari con un, mmm, non mi basta, oh ma che cavolo ho fatto, maledizione a me, ho sbagliato tasto, ho sbagliato tasto, eh ho premuto la I invece di premere la P, perché in questo caso noi non ce la facciamo nemmeno con questi, aspetta, sia con il fertilizzante, aspetta un attimo prima che come ci incastro un attimo, andiamo un pochettino più in avanti, eh sapete che cosa, forse magari avremmo bisogno di un altro sacchetto, ovvero di un altro pallet di fertilizzante solido, sì, arrivato a questo punto mi sa tanto che mi conviene, a meno che arriviamo a quanto, 62%, eh va bene, va bene, però aspettate, non ho visto una cosa, riguardante questa seminatrice, se il campo prima va arato, ma non credo che andrebbe arato, non lo so, ok, allora vediamo un attimino, io mi avvio verso casa, ovvero verso la nostra fattoria, vediamo un attimino come si comporta anche questa seminatrice, eh perché ribadisco che eh essendo nuovo il gioco, eh devo cercare quantomeno anche di capire come funzionano determinate cose, ora naturalmente c'è chi ha iniziato a giocare a farming già da un bel po' di mesi, eh però comunque sia è uscito oggi, cioè non proprio oggi il 23 ma è uscito a novembre, eh di cui il giorno preciso non sapevo qual era e quindi eh vedendolo un attimino anche su eh steam ho detto vabbè dai ci provo, lo prendo, lo guardo, vediamo un attimino come si comporta eccetera, anche perché voglio dire no, non è che poi c'ha un prezzo così tantissimo elevato, anzi c'ha pochissimo di prezzo, vediamo un attimo, questo è considerato che qui abbiamo degli altri semi, ce la facciamo? No mi sa che mi rimane, ok, allora con la I lunga mi sa che noi andavamo a selezionare la colza, va bene sì perché qui stavo seminando colza e devo finire di seminare colza? Ora, oddio, i rumori però sono fatti veramente benissimo eh, ora non vorrei dire niente ma i rumori sono veramente fatti benissimo, abbassa, accendi e damo, se vediamo un po' se mi semina, dovrebbe seminarmi? Sì, ok, a seminare mi semina, va bene, però sapete che cosa ci mancava su questo farming? Il fatto del colore del terreno, mi spiego meglio magari brevemente, durante la fase di semina, forse magari sarebbe stato meglio adottare un tipo di colore diverso, qui adesso non è che si riesce a capire dove è seminato, dove non è seminato, se è seminato oppure no, ecco perché dico che il colore magari lo dovevano fare un po' leggermente più scuro, però va bene anche lo stesso, comunque sia, d'accordo, il gioco non l'ho fatto io e così via, allora mi sa che noi qua, io qua non l'avevo seminato, fatemi vedere, cipro, sì, infatti non è nemmeno seminato qua, sì infatti qua non è seminato, quindi andiamo così con la semina un attimino di colza, riguardante invece la crescita delle piante non so se funziona anche qui con il tempo veloce, eccetera, attenzione, prima che sbatto contro la casa di un altro qui, sì perché ho notato che in tal caso le persone escono anche di casa, sì perché passano anche per questa strada, cioè dalla strada della nostra fattoria passano anche le persone, le persone a piedi naturalmente, però ho provato a mettere sotto una persona, ahimè non funziona, ovvero non si pianta il trattore o magari all'occorrenza non muore la persona, comunque sia, non è un gioco di violenza ma è un gioco di agricoltura, i movimenti del trattore invece sono veramente fantastici, sono fatti veramente benissimo, guardate un po' come traballo un attimino il trattore, anche la, diciamo tra virgolette, l'animazione della sospensione del, com'è che si chiama del sedile del nostro agricoltore, è fatta anche lei abbastanza bene, sono onesto ragazzi, ha vinto tutto certamente, però secondo me un pochettino di migliorie, beh le potevano fare, ovvero il terreno un attimino più realistico, d'accordo, c'è anche la possibilità di togliere o mettere all'occorrenza i sassi, eccetera, però secondo me riguardante il terreno, beh lì a mio parere ci dovevano lavorare un attimino di più, perché voglio dire, no, siamo con il farming 22, non si sa se man mano che va avanti magari aggiorneranno il titolo, magari aggiungeranno anche qualche altra cosa, perché ho visto che in tal caso i trattori, barra mezzi, attrezzi, eccetera, sono rimasti sempre quasi gli stessi, d'accordo, forse magari cambiano i nomi, cambiano i trattori, cambiano le grandezze, eccetera, però secondo me è rimasto sempre quasi lo stesso del 19, comunque sia, l'importante è che lo si prova, lo si prova, facciamo adesso questa cosa qui, allora, avessi considerato che questa qui mi fertilizza anche allo stesso tempo, io direi di iniziare quantomeno ad aumentare il tempo, il tempo fino a quant'è? Sempre fino a 120, non l'hanno aumentato fino a 200, magari 250, non lo so, magari una roba del genere, allora, dispiegami questa qui, tra un po' viene anche a piovere, a parte il fatto che noi comunque sia abbiamo un pochettino di robe da fare, come detto dobbiamo andare a vendere l'altro carico di frumento che abbiamo qui nel silos, vediamo un attimino dove lasciare il trattore, ok io lo lascerei un attimino qui, mi ricarichi questo, 4000 litri, vediamo un attimino quanto paga, oddio, questo qui 1300, però sapete che cosa? Nel vecchio video quando sono andato alla Goldcrest Valley non ho ancora ben capito com'è che si fa a vendere, io per il momento ragazzi la porto alla Farmers Market perché magari è un attimino un po' più facile trovarlo, che si trova in tal caso là sotto, ok, allora, la copertura mi sa che qua non si può chiudere, d'accordo, mi sa che ho sbagliato strada, è bravo il cretino, ho sbagliato completamente strada, e vabbè, dai su, non fa niente, magari ci arriviamo anche così, non è quello il problema, anche se ribadisco il concetto della Goldcrest Valley, forse magari lì si potrebbe vendere con il treno, sapete che non lo so nemmeno io, com'è che si fa a vendere? Ah, un'altra cosa non ho visto, aspettate, fatemi parcheggiare un attimo qui, la crescita delle piante, la crescita delle piante, noi abbiamo a disposizione il campo numero 44, 45 e 46, abbiamo i filtri, ah, ecco, ok, il 44 è arato o mietuto, dovrebbe essere mietuto, il 46 è in fase di crescita, mentre invece al 46 che abbiamo messo la colza, naturalmente, poi dopo magari vediamo un attimino anche che cosa possiamo mettere, sia al 44 che anche al 45, perché visto e considerato che la colza ce la pagano veramente tanto, io direi magari anche di fare un'altra semina di colza, arriva da questo punto, e l'unica cosa che mi piace è il modellino dell'auto, barra trattore, barra mietitrebbe che abbiamo qui sulla mappa, e mi piace anche il fatto delle iconcine di color celestino, quasi tipo come un segnale stradale, fatto veramente benissimo, veramente un ottimo lavoro hanno fatto riguardante, benissimo, è venuto a piovere, bene, mi sa tanto che se dobbiamo iniziare a mietere, ovvero a raccogliere, non possiamo ancora raccogliere, e vabbè, pazienza, lo faremo magari quando smetterà di piovere, oppure magari quando direttamente crescerà il raccolto, perché non credo che mi farà raccogliere con la pioggia, non credo proprio, non credo proprio perché anche nella vita reale è così. Ok dai, allora, io mi faccio questo piccolo tragitto, magari vediamo un pochettino se facciamo un piccolo timelapse, oppure magari direttamente, o vi faccio il taglio, oppure se no magari andiamo direttamente lì, ci facciamo una mezza chiacchiere, una mezza cosa, vediamo un attimino quello che riusciamo a fare. Sapete forse che cosa? Mi sa tanto che dovevo cambiare anche il trattore, perché questo qui va veramente pianissimo, mi sa che dovevo prendere il John Deere, ma ha già finito di piovere, ottimo, almeno così lì mi dovrebbe crescere subito, aspetta, dove cavolo è che sto andando, non lo so nemmeno io, scusate, ho sbagliato completamente strada, eh sì, purtroppo capita, signori, capita. Ok dai, allora, siamo quasi arrivati, tanto voglio dire no, non è che poi è così tanto lontano. Devo cercare quantomeno anche di trovare un pochettino di mod riguardante farming 22, vediamo un attimino se magari le mod saranno sempre le stesse, ho sbagliato un'altra volta strada, buon uomo, fermati, dove vai? Sapete che cosa? Mi piace anche l'animazione quando il nostro piccolo personaggino muove le marce all'interno del veicolo, questa cosa qui la trovo anche abbastanza carina, la trovo anche abbastanza carina, allora mettiti qui, facciamo un pochettino di zoom indietro, olè. Ci abbiamo guadagnato veramente pochissimo, 5000 euro e non bastano, eh no, no no no, niente ragazzi, non è una cosa tanto buona. E vediamo un attimino, questo qui è ancora in fase di crescita, e vabbè, dai, aspettiamo magari che cresca. Quello che ho notato è questa cosa qui, che mi cambia le marce, vedete? Tacchede! Tacchede! Vabbè dai, hanno reso realistica questa cosa qui, certamente, posso anche ricambiare di nuovo il personaggio, lo posso fare più carino, più... insomma, posso fare quello che voglio. Allora, vediamo un attimino la strada per poter ritornare a caso, a casa... no, sto sbagliando strada, damosi di qua. Dai, dai, che ci siamo quasi a casa. Un altro pochino di strada, e ci siamo. La mappa, anche, mi piace che l'hanno resa circolare, e anche rettangolare, ovvero quadrata, e poi, con il quadrato più grosso, veramente una cosa fatta bene, sì. Questa volta, ci hanno azzeccato. Sì, hanno cambiato anche un pochettino i colori, insomma, le cose, eccetera. Mi piace, mi piace proprio il lavoro che hanno fatto, stavolta, su Farming 22. Mi sa che viene di nuovo a piovere. Siamo già a settembre? Manutenzione tenuta di che cosa, scusa? Madonna. Ma che è un furto, 125 euro di manutenzione? Ma stiamo scherzando? Vabbè. Chi sono io per giudicare? Siamo già giunti al mese di settembre. Ora, come detto, non so come funziona... come funzionano le stagioni. Se posso raccogliere lo stesso o meno. Questo non lo so. Non vi so dire, ragazzi, non lo so. Se magari riesco anche a raccogliere qualche cosa con... con le nuove stagioni, eccetera. Secondo me, sì. Secondo me dovrebbe essere sempre la stessa cosa. So che ci sta anche l'inverno con la neve. E ci sta anche lo spalaneve. Allora, facciamo così. Visto e considerato che non abbiamo più niente nei silos... Scendi di qua. Questo qui che roba è? Dovrebbe essere, credo, il fienile. Scusi? Buon uomo? Diga? Ma che roba è? Questa cosa qui non la sapevo. Ma qui possiamo anche... custodire i nostri mezzi? Eh, vabbè. Sembra che... ci sia quel quadro che non cosa vicino a questa... Mi sa che c'è quel quadro che non cosa qua vicino. Perché io ho ancora... No, dai. Ci abbiamo un trapano a colonna. Una sega circolare. Un secchio. Delle scarpe. Dei cavi. Una smerigliatrice. Bene. Ullala. Sì. Va bene. Però questa cosa qui non l'ho capita a che... Aspetta. Eh, sì. Mi sa un po' leggermente baggatino. Però, però... Va bene. Ci abbiamo anche lo zaino qui. Ci abbiamo uno scaletto. Una sedia girevole. Un martello. Una pipetta dell'olio. Sì, si chiama così. Non prendetemi in giro, ma si chiama così. Risaliamo, vai. Ah, ah. Benissimo. Ci sta... Ullal. Eh, aspetta che un attimino è un po' troppo baggato. Udite, udite, signori. Si sentono anche i temporali. Fighissima. Ma qua ancora deve crescere. Allora, stavo vedendo un attimino qui nelle impostazioni di gioco. Crescita stagionale. Sì. Attivo un calendario della crescita in linea con le stagioni. Le piantature. La piantatura è possibile solo se le colture giungono a maturazione. Imposto il numero di giorni in un mese. Le modifiche ti verranno attive nelle prossime stagioni. Visuale mese fissa. Determina se un mese specifico deve restare sempre visibile. Disattivata per una visuale dinamica. La neve sì. E i veicoli possono spostare anche la neve quando cade. Poi, naturalmente, ho messo la distruzione del raccolto. No. Aratura periodica necessaria, no. Calce viva, no. Erbaccia, no. Però, riguardante, invece, la crescita delle piante. Aspetta, perché io adesso ho tolto. Crescita stagionale. Crescita stagionale, però, aspetta. Ah, ok. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Guarda qua, che figata. Ehm, 17 gradi. Settembre. Però qui non è ancora cresciuto. E quanto cavolo di tempo sta per potermi crescere il raccolto? Ma è una cosa normale? Che sta tanto? Ullala, ci abbiamo anche i cervi. No, vabbè, ci abbiamo pure i cervi. No, cervo, vieni quasi alla mia cena. Vieni, vieni, vieni. Madonna. E basta, gorrere. Ma li possiamo pure catturare, i cervi. Vieni qua, cervo. Mi ci sono impiantato. Aspetta un attimo. Cervo? Ah, signor cervo. Bene. L'ho pure perso. Benissimo. Ehm, qui, che roba, eh? Salvo la partita qua. Boh, non lo so. Non lo so. Ehm, oddio. Fertilizzato al 50%. Crescita in fase di crescita. Ehm, mi sa tanto che questo qui dovrebbe essere fertilizzato un'altra volta. Perché è al 50%, non al 100%. Mi vengono i dubbi. Forse magari è meglio prendere una... Una fertilizzatrice. Raccogli i sassi? Scorpio 5,50. Oddio. Forse magari quando ci sono troppi sassi in giro mi dovrebbe raccogliere i sassi. Tecnologia per la viticoltura. Ah, ok, sì. Allora, riguardante invece le... Ehm... Fertilizzatrici. Raccogli i grano. Dove che stanno? Erpici. Raccoglitore. Erpici potenti. Irroratrici. Spandi con cime. Do cavolo e che stanno? Spargi... Ehm... Spandi fertilizzanti. Ehm, sì, non è che poi hanno fatto chissà che cosa però, eh? Hanno messo questo qui dell'Amazon e però hanno lasciato il Bredal. Ma hanno messo anche un Amazon... Un... Amazon Zita ATS 3200. 3200 litri. Ehm, dai, l'ho voluto prendere. Allora, facciamo così, visto che considerato che non è ancora cresciuto. Aspetta. 0.5, 1. Ah, ok. Sì, 0.5 e forse magari è ancora di meno. Allora, 0... Eh, 50%. Visto è considerato che il trattore l'abbiamo... Il trattore già l'abbiamo. Facciamo così, andiamolo a prendere il... Lo spandi fertilizzante. E vediamo un attimino se magari è possibile fare anche una seconda passata. Vediamo un po', ci proviamo. Allora, abbassa peso, apri il menu, lavoratori, intelligenza artificiale. Ehm, oddio. Lavoratori... Ah, ok, lavoratori attivi. Ehm, no, vabbè, per il momento va bene così. Però, visto e considerato che abbiamo 93.000 euro, non mi pare il caso di mettere l'operaio a lavorare nel campo. Perché sennò, i... sti quattro spicci che ci sono rimasti qua, ce li giochiamo tutti quanti dietro l'operaio. Abbastanza piccola, però... Allora, vediamo un attimo. Grandi sacchi. Calceviva, semi, frumento, fertilizzante solido. Eh, sì, dovrebbe andare il fertilizzante solido. Perché noi comunque sia, ci abbiamo anche già tutti quanti i cibi per... I suini, la vina per i cavalli, il frumento per i polli, calceviva e anche il sale antigelo. Magari, mettete caso che, vieni a nevicare. Allora, facciamo, configura... Quante mille litri? 1.800 euro. Te passa la paura? Madonna! Ricarica qua, vai! Madonna, 1.800 euro per un cavolo di... di sacchetto? 1.000 litri. Eh, secondo me 1.000 saranno pure pochi. Liquido, solido... eh... Arriva da sto punto, prendo i sacchetti che è meglio. Sì, arriva da sto punto, prendo i sacchetti che saranno meglio. Anzi, sto cacchio meglio. 1.750, mi sa che non ce la facciamo nemmeno. E... Ne ho preso un altro sacchetto. Vabbè, 85% già si può fare, dai. Sì, un 85% è già un'ottima cosa, dai. Allora, vediamo un attimino di fertilizzare un attimino il campo. E vediamo un po' che cosa succede. Se poi dopo magari me lo darà al 100%. Più o meno mi ci piazzo qui, eh, lo so che butterò gran parte dei semi. Madonna! Vabbè, a parte che il raggio è abbastanza... largo. Su questo non c'ho dubbi. Ma va capendo è che sono passato e dov'è che no. Vabbè, mi piazzo qua e vado. Tanto voglio dire, no, c'è un'apertura veramente tanto larga. Pronti a spegnere perché sennò qua si consuma. Buonoli. Acuccia. Prima che facciamo dei danni a casa altrui qui. Ma ancora con sti cavolo di corvi qua che si vengono a mangiare tutto. E che cos'è? Basta. Fate un po' i seri. E che cos'è? Basta, no? Oh. E... Dunque. Spegni qui. Fammi vedere. Fertilizzata al 100% in fase di crescita. Va bene, ragazzi. Allora, detto questo, visto e considerato che comunque sia, la mia fattoria posseduta da... La mia fattoria diesel... Ah! 341 litri. Questa cosa qui non la sapevo. Se mi avvicino vicino al mezzo, barra attrezzo, mi dice, posseduto da la mia fattoria, è fertilizzante 2506 litri con... John Deere 7810. 341 litri ancora di diesel. Va bene. Ok, dai. Allora, ragazzi. Io direi che, arrivato a questo punto, posso concludere qui questo nuovo episodio della serie di Farming Simulator 22. Spero innanzitutto che questo nuovo appuntamento vi sia garbato. e se così, mi raccomando, vi invito a lasciare gentilmente un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, a condividere questo video per poter aiutare serie e canale a crescere e noi ci si becca molto presto in un nuovo video. Un saluto a tutti da G90 Gamer. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!